Ho sviluppato una forma di dermatite atopica in viso da circa un mesetto. Si concentra soprattutto intorno alla bocca e agli occhi. Mi brucia, mi prude moltissimo, soffro anche di acne e dovendo indossare sempre la mascherina, peraltro non ho nemmeno modo di lasciare traspirare molto la pelle. Cosa posso applicare per cercare di risolverla o magari per avere un po' di sollievo? Grazie mille, complimenti per la trasmissione. E il gruppo del sangue? È il gruppo A, 22 anni gruppo A. E beh, se c'è l'acne o i dolci cremosi, tipo gelati, creme, budini e vi dicendo, o latte derivati del latte, anche cacao e cioccolato possono sicuramente rientrare. Come dicevo oramai, l'ho detto in quasi tutte le trasmissioni, lo dico anche stasera, la cosa che potreste fare sarebbe quella di dire ma è possibile che io che lavoro faccio questo e quest'altro mestiere, che porto la mascherina e che mangio questo, questo e questo, che mi trovo ad avere delle belle reazioni cutanee attorno, sì, sul viso, attorno alla bocca? Certamente. Poi dipende che cosa mangia di frequente, però non è un alimento usato una volta ogni tanto a creare problemi. Se lei accusa questo fastidio, questa problematica da un po' di tempo, vuol dire che, insomma, sta usando degli alimenti che non tollera da un po', in modo un po' appunto continuato. provi, certamente portare la mascherina è quanto di più dannosa e nociva ci possa essere, anzi, dovrebbe chiedere al suo medico, da fare un certificato medico che lei non può e non deve portare la mascherina.